Ciao, vi voglio parlare di un'importante iniziativa di Kinder più Sport per promuovere lo sport giovanile. Kinder più Sport più One Click. Tutti voi potete aiutare un'associazione sportiva con un semplice click. Kinder più Sport donerà 40.000 euro complessivi in attrezzature sportive e materiale tecnico alle 5 associazioni italiane che avranno ottenuto più click. Tutte le associazioni sportive che si iscriveranno riceveranno un kit digitale per farsi conoscere e votare. Per iscriversi occorre essere un'associazione sportiva dilettantistica italiana affiliata al CONI, comprendere un settore giovanile, avere un sito web e un indirizzo e-mail di riferimento. Il regolamento è disponibile sulla pagina di Kinder più Sport. Potrai seguire la classifica aggiornata in tempo reale e leggere le storie sulla pagina Facebook di Kinder più Sport. Chiunque può votare, basta un semplice click collegandosi a www.kinder più sport.it, www.facebook.com slash kinder più sport, www.oneclickdonation.com Il tuo click varrà un voto. Ma se sei fan della pagina Facebook di Kinder più Sport, il tuo click varrà due voti. E se infine lo condividerai con i tuoi amici, il tuo click varrà tre voti. One Click Donation è un'iniziativa basata sul coinvolgimento della community online attraverso un semplice gesto. Tu fai click e avrai dato una possibilità in più all'associazione che avrai scelto di essere tra le cinque prime classificate che riceveranno la donazione. Hai tempo fino alla mezzanotte dell'8 dicembre per partecipare, iscrivendo l'associazione, donando un click, facendo conoscere questa iniziativa a tutti i tuoi amici. Regala un click alla tua società sportiva e aiutala a vincere. Basta un click! Grazie a tutti!